In serata, il presidente facente funzione della Regione Calabria, Nino Spirli, ha fermato l'ordinanza. In Calabria tutte le scuole rimarranno chiuse. In una lunga diretta a Facebook, Spirli ha ribadito che è necessario tutelare i ragazzi. Le scuole superiori saranno ferme dal 7 gennaio al 31 gennaio per ora, compreso. Le scuole elementari e le scuole medie, quindi le primarie e le secondarie di primo grado, saranno ferme per ora dal 7 gennaio a tutto il 15 gennaio, che è la data ultima inserita nel DPCM. Gli asili invece rimarranno aperti. Gli asili li lasciamo aperti perché i bambini più piccoli sono più facilmente gestibili e gli spazi a loro disposizione sono più grandi. Spirli sa che la sua scelta farà discutere. Sono convinto che ci saranno delle polemiche, perché chiaramente qualche polemica ci sarà, però i ragazzi onestamente non me la sento di farli andare in questo momento a scuola, in un momento in cui i contagi sono veramente tanti. Grazie. 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 Grazie.